Una manifestazione per chiedere di zittire le armi e raggiungere la pace in Palestina e Israele. Un corteo che si snoderà per le strade di Roma il prossimo 9 marzo per chiedere che sia garantita l'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza e la liberazione di ostaggi e prigionieri. Organizzare l'iniziativa che partirà da Piazza della Repubblica e terminerà ai fori imperiali e il coordinamento campagne della rete italiana Pace e Disarmo. La manifestazione arriva dopo quella dello scorso 24 febbraio, convocata dalle coalizioni di Assisi Pace Giusta e Europe for Peace che ha coinvolto più di 120 città e migliaia di cittadine e cittadini che si sono mobilitati per chiedere di fermare tutte le guerre e per difendere i diritti democratici fondamentali che oggi, ricordano gli organizzatori, sono messi in discussione. L'invito è a partecipare per far sentire la voce di chi alle armi preferisce il dialogo e la pace.